Da appuntamenti tradizionali tenutisi nel rispetto delle norme anti-Covid fino a convegni medici di portata nazionale. Quello che ci lasciamo alle spalle è stato un intenso weekend di appuntamenti seguiti dalle telecamere di Rossini TV, a cominciare dal cuore della città di Pesaro, perché Piazza del Popolo ha sperimentato la 66esima mostra a mercato dei fiori ornamentali, ma la prima al tempo del Covid. Una festa dei fiori molto partecipata, ma nel rigoroso rispetto delle norme di distanziamento sociale e obbligo di mascherine. Rassegna più giovane ma di successo crescente anche la fiera di San Michele Arcangelo, che nel fine settimana a Talacchio di Vallefoglia ha completato la sua quarta edizione con il secondo dei due weekend programmati all'insegna dell'eccellenza agroalimentare del territorio e concentrandosi su riflessioni di respiro nazionale con importanti convegni di confronto fra esperti. Uno speciale sulla fiera di San Michele Arcangelo che si potrà rivedere su Rossini TV sabato 10 ottobre alle 19.30. Questa domenica a Villa Berloni si è tenuto invece il convegno Benessere in menopausa, un confronto fra esperti per indagare un momento particolare nella vita di ogni donna da vivere come metamorfosi all'insegna della positività. Convegno organizzato da Confcommercio Pesaro Urbino e in particolare dal gruppo Salute, Bellezza e Benessere coordinato da Stella Scarpa, da Terziario Donna di Patrizia Caimi e da 50 e più di Alberto Dolci. Lo speciale del convegno sarà visibile integralmente su Rossini TV mercoledì 7 ottobre dalle 21.15. Venerdì alla stessa ora sarà invece trasmesso il convegno della FAND, la Federazione Associazioni Nazionale Diabetici che si è svolto al Grand Hotel Michelacci di Gabicce Mare da venerdì a domenica rendendo per tre giorni la città gabiccese centro nevralgico delle riflessioni sulla malattia e sulla tutela delle migliaia di italiani che soffrono della patologia diabetica. Salute e sport, un binomio che è proprio delle Fisioradi Center che nel weekend ha organizzato l'evento Everesting, una scalata al seguito di Enrico Tiberi nel ripercorrere in salita e in discesa in sella a una bicicletta gli 8848 metri di dislivello del Monte Everest, il più alto del pianeta. Un'avventura che si potrà seguire nello speciale di Rossini TV in programma martedì 6 ottobre alle 21.15.